Ti pensi di essere furbo, eh? Come se il nostro padre non diceva le stesse cazzate! Ma almeno lui non mi andate e diceva a fare le mignotte! Zitta, ho giuntato il sfum, non passiamo questa cazzo di voce! C'hai paura, eh? C'hai paura che se sparge la voce che fai il pappa! La reputazione vuoi tenertela bene, però ha pure i soldi, vero mi? Perché nascondi i soldi nel cassetto e nella schiena tua? Lo sai che ci vado a fuga dentro? Te piace? Te fa sentire meglio? Lo faccio per lei? Alle soldi gli servono? Infatti è così, che cazzo credi? E se li trovo me li prendo! Ma non vuol dire che mi sarai in coglioni da un mese che t'ho scoperto! Perché non sei andata via da un'altra parte? E dove? Che ne so, ti sarà venuta in mente? No, vabbè. In realtà una volta sì. Mi sarebbe piaciuto andare a Londra. E perché non sei andata? Beccata! Non sei l'inglese? Ma guarda che raggiante ci fa posta per impararlo. Non è per questo. Non ci potrei vivere io a Londra. Troppo grande. Meglio qui. Qui. E che ci trovi di bello? Non c'è un cazzo. Che ne sai te? Si vede. Ho già fatto richiesta al giudice tutelare. Una richiesta scritta di? È più di un anno, nessuna risposta. Secondo lei devo riscriverla da capo? Beh, dipende dal tipo di domanda. No, perché magari l'ho scritta a cavolo, ma aiuta lei? Certo. Oggetto della richiesta? Avere almeno una sua fotografia. Una fotografia? Di chi? Di Elia. Di Elia. Grazie a tutti.